benvenuti con le terre della bibbia e con la serata di informazione corretta e infatti questa sera come vedete è una serata eccezionale e abbiamo tre ospiti molto molto rilevanti abbiamo qui con noi il professor dottor maggio il carissimo fratello e anche lui dottore perché paul scheffer pastore gennaro chiocca che anche lui qui con noi è un grande onore per avere per noi avere come ospite anche il pastore chiocca eccolo sono qui mi fermo due minuti a presentarvi un po questi ospiti così importanti partirei con paul scheffer che è qui con noi in italia lui è di origine canadese e qui con noi in italia dal 76 da ci da oltre 30 anni si dedica all'evangelizzazione e alla formazione di giovani evangelici è impegnato nell'insegnamento di diverse scuole bibliche ed è attento conoscitore delle strumenti vive in italia dal 76 è stato responsabile della missione cristo e la risposta e inoltre presidente del consiglio per l'italia commissione e vicepresidente delle terre della bibbia poi abbiamo qui con noi il professor maggio che anche lui molti di voi già lo conoscono ma faccio una piccola presentazione il dottor maggio è rinomato conferenziere motivazionale è un'autorità nel campo della teologia biblica e della comunicazione interculturale con focus particolare sull'evangelizzazione dei musulmani con oltre 30 anni di esperienza nell'insegnamento della teologia cristiana il dottor maggio honoris causa ha dedicato metà della sua vita a promuovere il dialogo interculturale soprattutto tra le comunità evangeliche musulmane nel 2001 il dottor maggio ha fondato la prima missione che ha guidato per circa 20 anni ed è stato un faro di luce comprensione portando il messaggio del vangelo a comunità musulmane in tutta italia sviluppando strategie innovative per l'evangelizzazione da alcuni anni il professor maggio insieme ad altri co fondatori ha dato vita alla prima scuola online di teologia islamica e biblica concepita nella sua visione lungimirante già nel 1992 questa istituzione offre un programma accademico rigoroso e interdisciplinare che fornisce agli studenti gli strumenti necessari per comunicare efficacemente il vangelo ai musulmani riconosciuto per la sua vasta conoscenza dal mondo musulmano per la sua capacità di costruire ponti di dialogo e comprensione tra diverse fedi la sua scuola non solo prepara i suoi studenti a diventare evangelizzatori competenti ma li forma anche nel campo dell'islam politico oltre che in quello religioso grazie alla sua dedizione la sua competenza il professor francesco maggio continua influenzare positivamente il campo della teologia e della comunicazione interculturale lasciando un'impronta duratura nella promozione del dialogo e della comprensione dell'islam recentemente è stato ascoltato in senato per una proposta di legge riguarda la presenza dell'islam in italia non per ultimo ma non meno importante anzi direi abbiamo il carissimo pastore gennaro ciocca stavo dicendo il caro pastore gennaro ciocca che pastore adi della chiesa di lodi cura la chiesa di san giuliano di cui parleremo questa sera e in più è impegnato in varie opere come 72 ore per cristo oppure anche come traici ed altre iniziative sempre allo scopo evangelistico intanto volevo chiederti pastore cosa si intende per chiesa evangelica visto che tu sei un pastore di chiesa evangelica sì beh la chiesa evangelica ha come origini dal punto di vista storico dalla splendida riforma protestante che è nata circa cinque secoli fa attraverso l'operato di martì lutero e di altri riformatori che poi hanno iniziato a costruire quello che sarà l'evangelicalesimo in generale fino ad arrivare al secolo scorso quando sono nate le chiese pentecostali all'inizio del secolo del 1900 nate da un risveglio negli stati uniti che poi si è propagato dappertutto e per chiesa evangelica intendiamo quella chiesa che basa i suoi principi di vita sull'evangelo sulla scrittura sulle dottrine in modo particolare del nuovo testamento ma non è semplicemente una un riconoscimento di quelle dottrine ma anche un'esperienza di quelle dottrine che ancora oggi siamo in grado di predicare e anche di sperimentare tra le esperienze più diffuse nel pentecostalesimo c'è quello appunto del battesimo nello spirito santo questa pienezza che scende sui credenti che sono nati di nuovo e credenti che in forza di questa pienezza diventano udaci in forza del quale la chiesa oggi riesce ad essere testimone fino agli estremi confini della terra e vorrei dire approfittando anche del fatto che stiamo qui per raccontare un fatto purtroppo nuovo ma reale riesce a vivere a sopravvivere anche ad eventi di questa portata proprio perché ripiena della potenza del signore grazie come ben sappiamo il 5 maggio la chiesa di san giuliano è stata assaltata da un egiziano è andato sui giornali ma non è stato comunicato in modo molto chiaro e non è stato neanche divulgato tantissimo quindi questa sera vorremmo conoscere meglio i fatti e dopo di che lascio la parola sia a te che al pastore paul se ha da fare qualche domanda in particolare quindi vi lascio la parola prego pastore chiocca raccontaci pure come come sono andati fatti beh innanzitutto il 5 maggio per noi è stata una giornata ehm tanto benedetta durante il culto eh noi la domenica mattina svolgiamo due servizi di culti per ehm problemi di posti uno alle 8 e 30 e un altro alle 10 e 30 eh perché tutti insieme non ci sarebbe la possibilità di sederci devo devo dirvi eh che io alle 8 e 30 quando sono arrivato ho notato ehm un piccolo movimento strano perché sono entrato in chiesa e tra le file dei credenti che erano seduti c'era un ragazzo egiziano che ho notato particolarmente nervoso ehm quasi scocciato io di solito saluto tutti e abbraccio tutti perché mi piace abbracciare soprattutto quelli che non conosco eh stringere la mano e farli sentire a casa perché ehm eh entrare eh in una chiesa evangelica eh significa avere a che fare col Vangelo e quindi il Vangelo è una buona notizia la buona notizia la si trasferisce ai nuovi anche a partire da un abbraccio insomma da una da una buona accoglienza quindi mi sono avvicinato a questo egiziano per ehm salutarlo per abbracciarlo di solito noi facciamo anche una breakfast come tralci una colazione eh e quindi invitiamo a partecipare però l'ho notato scocciato eh nervoso io non l'avevo mai visto prima questo ragazzo però voglio dire ci sta magari ho pensato dentro di me avrà dei suoi problemi però non mi ha risposto al saluto e dopo qualche minuto si è alzato e se n'è andato fuori dalla porta della chiesa ed è finita così poi abbiamo svolto i nostri culti quello delle 8 e 30 quello delle 10 e 30 finito il nostro culto noi noi abbiamo un tempo da quando è arrivato il covid dove si pranza insieme sempre ogni domenica perché questo questo pranzo non è aperto soltanto ai fratelli della chiesa ma anche ai poveri della città ai poveri eh che non sanno dove andare con chi condividere le le proprie domeniche e noi quindi abbiamo pranzato verso verso le 14 circa io avevo una linea di febbre e mi sono alzato e sono andato via e alle 14 e 30 un anziano della nostra chiesa eh Gianni Adamo mi ha chiamato all'armato dicendomi di ritornare perché la chiesa stava venendo assaltata non siamo né in Turchia né in Tunisia quindi siamo in Italia in una nazione che io ribadisco cristiana la culla del cristianesimo l'Italia che ha visto l'apostolo Paolo venire a praticare l'evangelo duemila anni fa non vent'anni fa duemila anni fa sentire la chiesa sta venendo assaltata sono restato un po' così ho detto ma spiegami un po' e lui mi ha detto guarda non ti so spiegare stanno spaccando tutto vetrine porte infissi e poi l'ho lasciato perché ovviamente lui non è che poteva stare a telefono con me in quel momento mentre io cercavo di dirigermi indietro e così eh nel momento in cui questo assalto che è durato credo cinque sette minuti eh finito questo assalto mi hanno chiamato e mi hanno spiegato bene che cosa era successo e in pratica quello che la mattina era venuto e che era nervoso e che quindi io mi chiedo chissà che cosa voleva fare in chiesa questo questo ragazzo eh era tornato particolarmente eccitato non so se da alcol o anche da altro eh aveva lui ed un altro provato ad entrare in chiesa proprio nel locale di culto per aggredire i fratelli e le donne le sorelle che erano rimaste lì per pulire la chiesa dopo il pranzo eh oltre a queste ragazze che sono eh delle missionarie a tempo pieno c'era anche una famiglia con dei bambini eh che tra l'altro ho visto che sono collegati eh e che hanno vissuto in maniera diretta proprio questo dramma con questi due bambini ehm nel momento in cui loro hanno provato ad entrare si sono sfilati le cinture e credo che volessero con queste cinture minacciare eh in particolare le donne eh non siamo sicuri perché ehm un po' detto tra l'arabo tra l'egiziano e un po' l'italiano dicevano qualcosa sulle donne italiane come eh è stata recepita una frase del genere ma su questo non possiamo essere sicuri del tipo vi portiamo con noi qualcosa del genere ma ripeto su questo non possiamo essere sicuro come invece possiamo essere sicuri eh di tutto il resto che adesso vi racconto un nostro missionario ha provato a non farli entrare è riuscito nel frattempo ehm riuscendo a tenerli fuori questi hanno con le cinture iniziato a picchiare contro le vetrate della chiesa hanno preso da terra delle bottiglie di birra le hanno lanciate dei pezzi proprio di asfalto di pietra d'asfalto staccata da terra e lanciata contro i vetri gridando alla akbar alla akbar ehm nel frattempo che erano in due uno di questi si è girato ehm eh verso ehm il marciapiede di fronte dove di solito c'è un'ottima cerchia di islamici eh che si incontrano lì eh e tra l'altro la strada di fronte è piena di negozi islamici eh eh e eh ha incitato con la mano gridando a venire anche loro verso il locale ovviamente nella loro lingua nel momento in cui questi altri quattro quindi in totale in sei si sono avvicinati credo che si eh si siano fermati a metà strada perché nel frattempo c'erano persone che riprendevano con i loro cellulari ehm scene veramente da film eh di panico poi ovviamente loro se ne sono andati via e come avete visto dalle immagini tutto distrutto mentre le donne si erano barricate dall'altra parte del locale di culto e hanno iniziato a pregare hanno iniziato a invocare il signore e la cosa che mi piace eh testimoniare è che in mezzo a questi questo gruppo di fratelli c'erano due bambini abbiamo anche postato una testimonianza Emmanuel e Samuel Gavilanes che hanno detto alla mamma eh mamma noi andiamo in bagno della chiesa ci prostriamo a terra e preghiamo perché Dio ci libererà e così di fatto è successo questa è la cronaca di quel giorno grazie grazie Paul vuoi mh intervenire? ma io ho sentito pastore di Gennaro ho sentito che qualcuno ha anche chiamato i carabinieri ma non so se è attendibile sì non noi non noi i vicini ah i vicini ok sì 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 i vicini e sono arrivati sì sì no no sono arrivati è arrivata la polizia locale e addirittura è intervenuto il tenente dei carabinieri quindi è intervenuto l'ufficiale dicendoci eh questo dopo eh un'ora e mezza dal fatto che è accaduto dice guardate che quello che è successo non so se vi rendete conto questo il tenente eh ma è successo un fatto estremamente importante estremamente grave quindi dovete sapere che eh indipendentemente dalle vostre deposizioni dalla vostra denuncia questo è un reato che potrebbe andare d'ufficio in procura perché è un fatto estremamente eh estremamente grave e effettivamente io lo ritengo eh grave e lo ritengo grave per una serie di cose che poi magari se mi fate delle domande vi dico eh il mio pensiero sì ma certamente pastore Gennaro vorremmo sentire proprio il tuo pensiero riguardo alla alla situazione voi che l'avete vissuto in diciamo in prima persona ma allora Paul tu ci conosci da tanti anni sai quanto siamo vicino alla alla missione e da quanto tempo il Signore ci sta spingendo verso il mondo arabo eh per evangelizzarlo noi eh il mese scorso abbiamo preso la prima struttura in Tunisia a Che Libia eh dove eh a breve manderemo i nostri primi missionari della chiesa eh di Lodi qui a Che Libia c'è stata anche mia moglie che ha iniziato eh da subito a formare eh un progetto vita per i bambini della Tunisia una scuola domenicale di strada qui ehm nella chiesa di San Giuliano dove è avvenuto questo attacco noi ogni settimana curiamo attraverso l'alfabetizzazione 40 donne islamiche quindi io immagino che qualcosa stia iniziando a succedere nel cuore di queste donne ma vi spiego anche perché perché qualche tempo fa non lontano da questa data ehm due mariti di queste donne hanno hanno chiesto un appuntamento con il sottoscritto e sono venuti a parlarmi perché avevano un problema avevano un bisogno i mariti ehm quando io l'ho incontrati con evidenti segni sulla fronte eh che voi sapete che quei segni identificano eh un certo grado di radicalizzazione no eh eh di islamici loro stesso hanno definito essere fondamentalisti però nel frattempo loro sono venuto a fare questo colloquio con me perché le loro mogli eh a casa parlavano di noi e in particolare del dio di Monica che Monica sarebbe mia moglie che cosa è successo è successo che si è verificato un problema nella vita dei loro mariti legate ad alcune dipendenze in particolare alla dipendenza dalla droga e dal gioco d'azzaro e le mogli hanno detto ai loro mariti io vi ripeto perfettamente la frase che i mariti hanno detto a me ci hanno detto le nostre mogli di venire qua perché il dio di Monica è potente ad aiutarci e quindi si sono messi nelle loro mani e dio li ha liberati da queste dipendenze noi abbiamo detto detto guarda che noi non possiamo nascondere la nostra fede nel nome di Gesù noi ve lo proclamiamo ve lo diciamo ve lo mettiamo sul tavolo perché questo nome è il nome che libera è il nome che salva è il nome che guarisce ed è l'unico nome che è uscito dalla tomba a dispetto di tanti altri che stanno ancora lì nelle tombe e i cui corpi sono decomposti ben oltre come stava venendo decomposto il corpo di lazaro quindi io immagino che questo seme abbia iniziato a generare vita in loro e ovviamente quello che è potuto succedere è semplicemente forse una intimidazione un attacco che comunque grave perché io ritengo l'ho detto anche ieri sotto una tenda evangelistica a san giorgio a crevano l'ho detto detto noi non siamo la chiesa che ha ricevuto l'attacco noi siamo la prima chiesa che ha ricevuto l'attacco perché molto dipenderà da questa riunione eh fratelli perché i toni sono forse non sono forti forse qualche anno fa magari questo avrebbe fatto più scalpore perché con questa storia dell'inclusione stiamo venendo esclusi noi quindi non c'è una inclusione vera e proprio ma c'è una sostituzione delle culture eh che è e questo è il dramma più grosso attenzione a noi come evangelisti missionari ehm ehm diciamo così eh apostoli come visionari dell'opera di Dio eh sappiamo che per noi è un'opportunità vera a che fare con queste persone sappiamo che molte di queste persone saranno salvate e lavate dal sangue di Gesù e si convertiranno io lo so perché il Signore mi ha parlato e mi ha detto di non temere perché una larga porta c'è stata aperta e questo che è stato fatto alla chiesa di San Giuliano è semplicemente un seme qualcuno dice mi ha detto ma non temi il peggio ma il peggio per noi è semplicemente un seme che si spande la morte di un pastore può semplicemente manifestare un risveglio in quella nazione può semplicemente aprire gli occhi e il cuore a tanti credenti e impegnarli maggiormente ehm nelle azioni e nelle strategie missionari però da un punto di vista sociale da un punto di vista culturale qui abbiamo professor maggio che è esperto in questo c'è un fenomeno che non si può assolutamente sottovalutare perché questa inclusione sta avvenendo a largo raggio qua in Lombardia noi abbiamo tanti candidati islamici a diventare sindaci e assessori quindi non so se la risposta del sindaco di San Giuliano è lenta perché magari ehm in tema di votazioni ci sono queste forze interne anche al suo team che eh garantiscono determinate cose chiaramente non sono qui a fare politica però dobbiamo riconoscere che l'Italia e anche l'Europa guardate quello che sta succedendo in Germania ehm qui eh eh a breve non possiamo parlare più di inclusione ma semplicemente di sostituzione delle culture perché noi io ho quattro figli e tre adottati più tre adottati due sono albanesi e uno è egiziano io ho quattro figli però è anche vero che eh la media delle famiglie italiane non fa più figli attenzione perché la media delle famiglie islamiche non è che fa figli ne fa molti figli io sono un pastore che aiuta famiglie di setto otto nove figli e per quanto ci possa far sorridere oggi domani ci farà piangere ecco perché io vedo il problema della sostituzione quindi e questo è un problema che eh non non sarà molto lontano eh da gestire non sarà una cosa tu sai Paul e professor Maggio e tanti eh amici che vedo qui il problema della Lombardia eh dei locali di culto c'è stata una legge che per ehm diciamo così ehm contenere l'avanzata islamica e l'apertura delle cosiddette moschee Lombardia ehm è stata partorita da dal presidente allora fu Maroni una legge che ha coinvolto tutti quanti noi ecco perché questa non può chiamarsi inclusione perché se a me pastore assemblee di Dio o Elim o Pentecoste che sono riconosciuto sono figlio di questa nazione ehm eh conosco la cultura la pratico la vivo la testimonio forse in certe situazioni la predichiamo anche la nostra cultura italiana ehm mi trovo ad un certo punto allo stesso livello di chi sta approdando in Italia e vorrei dire non sempre perché hanno bisogno perché forse forse non tutti sanno che il movimento islamico e mi dispiace parlare così ma il professor Maggio sicuramente sa quello che voglio dire è un movimento incredibilmente missionario nel senso che loro sanno molto bene quello che stanno facendo venendo in Europa mentre noi stiamo qui a parlarne ci sono delle vere e proprie scuole che invitano ad invadere l'Europa e l'hanno detto nei loro paesi dai pulpiti dei loro paesi l'Europa sarà islamizzata e di fatto questo che in passato ci ha fatto ridere e ci ha fatto sorridere forse fare battute o anche addirittura vignette un domani noi ci potremmo trovare a discutere con loro che io sono imputato e loro sono un giudice in qualche tribunale che io sto per far vado a farmi una visita in ospedale e c'ho dei medici che sono islamici eh con questo non sto dicendo che questo non è possibile però dobbiamo studiare bene il fenomeno perché questo è un fenomeno non è semplicemente un popolo che sta venendo in delle nazioni semplicemente perché ha bisogno perché non riesce a vivere nel loro paese altrimenti non riesco a comprendere il motivo per il quale alcuni di loro entrano non riescono ad includersi nella cultura e si creano delle loro scuole quindi quelle loro scuole diventano dei veri e propri centri di formazione che non includono quelle formazioni escluderanno noi quindi la questione della croce nelle aule la questione del natale la questione della Pasqua come vedete questo è un fenomeno che non sta dicendo sono persone che hanno bisogno di lavorare quindi vengono a cercare stabilità no è un fenomeno dal punto di vista sociologico quel fenomeno noi stiamo molto probabilmente perdendo eh con le mani eh la grandezza di questo fenomeno grazie pastore genaro e allora Antonietta tu vuoi proprio adesso avremo modo di vedere un piccolo video che ci proietterà eh Alessandro e dopo passeremo la parola al professor maggio qui si dice preparate contro di loro tutte le forze che potrete i cavalli addestrati per terrorizzare il nemico di Allah è il vostro tutto quello che spenderete per la causa di Allah vi sarà restituito non sarete danneggiati cioè questa sembra proprio la giustificazione di un attacco a chi non crede se consideriamo l'integralità del messaggio dell'islam in realtà il rigore e la misericordia si alternano e si accompagnano le due facce dell'islam la maggioranza dei musulmani crede in modo tollerante esistono però frange violente ed estremiste i due gruppi fanno riferimento a un unico testo sacro il corano brandito come una spada dai guerriglieri dell'isis invocato come strumento di pace da tutti gli altri i versetti controversi non mancano per esempio quelli che esortano ad uccidere gli infedeli o quelli in cui si vieta di trovare alleati fra ebrei e cristiani abbiamo chiesto all'imame della moschè al-bahid di milano sergio pallavicini anche vicepresidente della comunità religiosa islamica di aiutarci a interpretarli chi fa uso della violenza fa un uso sbagliato delle letture dell'islam però mi scusi se io credo nel corano e il corano mi dice espressamente che io dovrei unirmi alla lotta perché all'ame lo chiede se io non lo faccio posso andare incontro a un castigo eterno la mediazione nella corretta interpretazione delle letture dei testi sacri di autentici sapienti è fondamentale se lei adesso avesse davanti un fondamentalista che come ho fatto io le legge quel versetto e dice di credere nello stesso dio in cui crede lei lei che cosa gli direbbe l'errore per essere semplici del letteralismo di pensare comunque di non possiamo dire di tagliare la mano a colui che che ruba perché è scritto così anche nell'antico testamento non mancano i passaggi brutali oggi però sono più comuni gli estremisti islamici che usano il testo sacro come una sciabola c'è una militanza un po apologetica che non ritiene di dover dialogare con la modernità con l'occidente il nostro libro e no di chi niente per quello che hanno fatto quello non è musulmani che loro ucciscono gente non sono musulmani il jaccia pallavicini vicepresidente della moschea coreis a milano diceva che l'islam c'è un islam moderato e che alcune persone eccedono nell'interpretazione letteralista del corano quindi io rispondevo a questo video perché jaccia pallavicini è un interlocutore importante in italia dal con le nostre istituzioni italiane e anche da papa francesco quindi e poi collegandomi alle sue dichiarazioni ecco che qua inizia la mia reazione grazie allora se l'islam è una religione di pace come viene riferito dalla comunità musulmana e dal suo clero gli atti di terrorismo commessi in suo nome sono gli atti di pochi individui deviati che hanno frainteso e malinterpretato i suoi insegnamenti in tal caso l'islam ci viene ricordato puntualmente dalla comunità musulmana e e dal tutto innocente rispetto alla violenza e al terrorismo che gli viene attribuito come nell'esempio della cronaca a danno della chiesa evangelica in lombardia culminata da un dall'arrivo delle forze dell'ordine quindi di conseguenza da questa premessa ci si dovrebbe aspettare che alla luce degli episodi terroristici perpetrati da parte di alcuni li chiamano criminali nel nome dell'islam i fedeli e gli studiosi più autorevoli nello spirito del detto coranico non c'è costrizione nella religione si impegnano a sostenere il valore della libertà di religione e di espressione quindi convochino rappresentanti delle comunità musulmane e la qualità di leader a vari livelli come i mufti yulema imam capi di madrasse islamiche sul territorio il nostro obiettivo non è stigmatizzare una comunità religiosa ma piuttosto promuovere la soluzione sui temi importanti che riguardano la nostra società nel suo complesso vogliamo creare uno spazio in cui ognuno possa sentirsi libero di esprimere la propria fede in modo rispettoso che tuttavia vogliamo anche affrontare apertamente questa sera le questioni delicate che sono associate dai radicalizzati sulla loro comprensione del corano prossima per i versetti dell'odio che incitano ad uccidere nel corano chiunque non sia musulmano o infedele espressioni quali ad esempio lanciatevi contro gli infedeli appare due volte nel corano inoltre è vero che il modo in cui tali versetti vengono utilizzati interpretati dalla comunità musulmana può variare giustamente quindi non facciamo generalizzazioni tuttavia il contenuto di troppi passaggi di stigazione all'odio del corano contrasta oggettivamente lo stato di diritto la costituzione l'articolo 104 bis del codice penale la dichiarazione dei diritti dell'uomo la convenzione europea dei diritti dell'uomo la carta di diritti fondamentali dell'unione europea l'articolo 10 della carta della tutela della libertà di pensiero di coscienza di religione questi strumenti legislativi lavorano assieme per garantire una protezione robusta contro la discriminazione nel corano e non soltanto nel corano ovviamente ma questa sera stiamo parlando di islam quindi dobbiamo parlare di corano per questa sera in tutti i paesi membri dell'unione europea qualsiasi libro che contiene esplicite istigazioni all'omicidio è incompatibile alla legge internazionale qualsiasi libro le varie istigazioni all'omicidio palesi nel testo in arabo del corano potrebbero richiedere una votazione da parte di esperti legali e religiosi musulmani noi stiamo facendo questo questa esposizione ben consapevoli che le istituzioni musulmane possono leggere e ascoltare i contenuti questa sera e siamo qui per partecipare con loro al miglioramento di questa società quindi dopo l'aggressione 5 maggio è diventata una preoccupazione urgente trattare questo tema ecco alcuni versetti nel corano ne ho citati soltanto quattro qui va ce ne sono decine di decine di decine ok ho selezionato quelli un po più facili dal punto di vista esegetico anzi non richiede nemmeno un esegesi ecco porto facili per qualsiasi uomo della strada qualsiasi persona che passa per strada la sulla 66 9 allora ogni volta che nel corano noi leggiamo nel corano italiano combatteteli o combatteli o combatteli combatti in arabo è sempre uccidere la parola combattere in una lingua araba non c'è mai nel corano la parola per combattere in arabo invece realmente quella che dicono i musulmani è stata ispirata uccideteli quindi combatteteli uccideteli finché non ci sia più politeismo e la religione sia tutta per alla quindi non ci sono non c'è spazio ad avere coesistenze con altre religioni no c'è soltanto il l'unica religione quella di alla se poi smettono bene alla ben osserva quello che fanno uccideli finché non ci sia più persecuzione e il culto sia reso solo ad alla se desistono non ci sia ostilità a parte contro coloro che prevalicano l'altro è combattete sulla via di alla e sappiate che alla è audiente sapiente uccidete coloro che non credono nell'anno l'ultimo giorno che non vietano quello che alla è il suo messaggero hanno vietato tra la gente della scrittura la teglia della scrittura appunto di vista etimologico si riferisce soltanto sempre esclusivamente a coloro che hanno una bibbia e credono nella bibbia quindi non si parla della gente della scrittura di altre religioni è soltanto associato ai giudei e ai cristiani e che non scelgono la religione della verità cioè vuol dire della di alla finché non versino umilmente il tributo e siano soggiocati questi sono solo quattro versetti che parlo di uccidere in italiano hanno messo combattete ma in effetti nella traduzione in arabo e uccidere è incompatibile con il nostro stato di diritto un qualsiasi libro pubblico che istighi ripetutamente odio e uccisioni di persone in base al loro credo diverso da quello islamico sta dando luogo a legittime preoccupazioni e riserve sul nostro territorio come ha detto anche prima il pastore gennaro per questo è urgente ascoltare i massimi interlocutori moderati dell'islam e per quello è cerai anche pallavicini nel video affinché condannino pubblicamente gli atti di terrorismo assumano decisioni volte a proteggere i diritti e la sicurezza di tutti i cittadini non musulmani sul nostro territorio quanti abitanti siamo in italia bene e di qualsiasi confessione si discutono intorno ai tavoli queste questioni per prevenire l'uso improprio del corano soprattutto assistendo al fenomeno di lupi solitari in contrasto al detto islam e pace strumentalizzano versetti del corano rincorrendo ad armi bianche auto esplosioni e queste croniche noi siamo circondati da queste croniche amici in ascolto riconosciamo io riconosco anche io la libertà di religione di espressione come diritti fondamentali ma nello stesso tempo occorre garantire che tali diritti non violino quelli degli altri cittadini non musulmani perché noi abbiamo dato diritti a tutti anche i musulmani godono questi diritti costituzionali ma si riversano a volte anche nel mondo contro gli stessi locali di queste nazioni francesco spiegaci come la mancanza di una vera comprensione delle motivazioni ideologiche islamiche dietro gli attacchi estremisti ci impedisce di prevenirli e di combattere efficacemente ecco parliamo delle identificazioni delle radici cosa vuol dire io sapete uso sempre metafore solo metafore e poi stringo insieme in modo pragmatico questo è il mio metodo questa sera io ho assistito qualche tempo fa allo sradicamento di un albero davanti a casa mia lo hanno estirpato perché un albero malato così metaforicamente ho pensato che se non comprendiamo le radici di un problema e lo tralasciamo non possiamo certo curare le cause di quel problema mi riferisco allo stesso modo che se non capiamo perché alcune persone musulmane diventano estremiste non possiamo risolvere i problemi legati alla radicalizzazione ecco questi miei pensieri strategie di prevenzione inadeguate denuncio le strategie di prevenzione inadeguate perché immaginiamo di cercare di riparare una macchina perché va a strappi senza sapere qual è la causa principale e se non sei un meccanico come non lo sono io si fanno piccole correzioni qua e là si gira intorno ma la macchina non funzionerà correttamente finché non si affronterà la riparazione principale nello stesso modo i programmi di deradicalizzazione devono affrontare le convinzioni fondamentali degli estremisti per avere successo spesso le strategie per prevenire l'estremismo islamico non funzionano bene se non si capiscono esattamente le latenti molle di spinta ideologiche che animano gli estremisti islamici come si fa con tutti i tipi di estremismi no politiche di sicurezza immaginiamo di avere un problema dei perdita d'acqua a casa mia se si cerca di risolverlo semplicemente tamponando le perdite visibili ma senza determinazione e non sei un idraulico come non lo sono io il problema continuerà a persistere attenzione ora allo stesso modo le politiche di sicurezza del paese che non affrontano le ideologie islamiche che costituiscono la base dell'estremismo di matrice islamica possono non essere efficaci nel risolvere i veri problemi di sicurezza nazionale ora familiarità dell'islam politico dunque immagini dover affrontare un incendio in una casa anche se sei un abile sei abile a spegnere i piccoli incendi da solo potresti non riuscire a spegnere un grande incendio da solo e se non sei un pompiere è importante che chiami vigile del fuoco a collaborare con coloro con loro per spegnere l'incendio in modo efficace allo stesso modo per combattere il terrorismo di matrice islamica è necessario collaborare con esperti e istituzioni specializzate nello studio dell'islam politico e ideologico per comprendere e affrontare le radici del problema in ciò noi cioè noi compreso me con un piccolo gruppo di ricerche stiamo cercando di approntare queste informazioni anche professionali anche ai piani importanti la conclusione di queste quattro analisi per gli attacchi estremisti di matrice islamica è essenziale una comprensione approfondita delle ideologie che li alimentano anche attraverso una comprensione approfondita possiamo sviluppare interventi efficaci per contrastare il terrorismo e proteggere la sicurezza nazionale in collaborazione perfino con le personalità giuridiche islamiche moderate che auspico stiano ascoltando loro andrebbero contattati in primis perché loro sono la chiave di volta per noi e se ci sono persone moderate come yak palavicini non dubito ma io credo che possiamo contattarlo per parlare insieme intorno a un tavolo perché i nostri tribunali e le nostre istituzioni sono spesso riluttanti a riconoscere il legame tra dottrine religiose estremiste e atti di violenza primo parliamo del vincolo della libertà religiosa noi abbiamo un vincolo a libertà religiosa immaginiamo una scuola che permette a tutti gli studenti di esprimere liberamente le proprie convinzioni religiose ma non ad alcune per esempio e questo potrebbe essere accusato di discriminazione religiosa in base alle vigenti leggi tuttavia ignorare il fatto che alcune ideologie cozzano contro lo stato di diritto e della costituzione metterà prima o poi a rischio anche la sicurezza dei cittadini accenniamo alle implicazioni politiche e sociali le autorità europee esitano nell'adottare misure più restrittive contro l'estremismo religioso per timore di innescare tensioni sociali o conflitti prendiamo l'esempio classico dell'ungheria e la polonia sappiamo tutti hanno ricevuto critiche internazionali per le loro politiche sulla immigrazione o sulla non inclusione e sui scarsi diritti umani che alcuni ritengono discriminatori nei confronti nate queste cose contro soltanto i migranti musulmani e poi quindi passiamo alle interpretazioni diverse sono varie interpretazioni dell'islam io ho assistito a un collegamento televisivo che si svolgeva a londra c'era un dibattito tra i diversi esperti musulmani moderati e non moderati discutevano sull'interpretazione corretta dell'islam daranno davano una visione diversa ciascuno di loro ma per farvi dei casi eclatanti questa sera che conosciamo tutti nel 2013 la dichiarazione di erdogan quando lui affermò a pieno titolo su tutti i giornali del mondo mi ricordo l'islam è l'islam rifletteva leggendo l'articolo poi rifletteva la sua prospettiva e enfatizzando un'interpretazione che non esiste l'islam moderato erdogan nello stesso tempo c'è stato uno scambio di vedute rispondeva replicava barack obama dall'altra parte del mondo che caratterizzava con la sua risposta una religione di pace islam e pace e quindi rifiutando la possibilità di un islam aggressivo queste sono due posizioni classiche da due personaggi importanti quindi poi se scendiamo di livello andiamo nei salotti teologici musulmani ci sono tante idee ma sono più che altro orientate su queste due direzioni quindi quando le nostre istituzioni sentono queste due persone di rilievo può rendere molto difficile per le istituzioni identificare chi sta dicendo quello che sta dicendo sia giusto o sia sbagliato anche loro si confondono e non possono affrontare specificamente le interpretazioni come vogliono loro naturalmente così questo è il punto i terroristi o quelli che hanno naturalmente il sangue bollente contro l'occidente approfittano con fu artatamente di questa confusione di questo vuoto delle istituzioni per promuovere la loro agenda indisturbati perché non hanno le idee chiare i nostri politici ma non i nostri a livello occidentale perché sono due versioni in che si contraddicono tra di loro allora quali sono le conseguenze di questa riluttanza per la nostra sicurezza nazionale e allora questa qui è una domanda che ci interessa a tutti anche noi cittadini pubblico popolo parliamo della inefficacia nelle politiche di prevenzione cosa significa le conseguenze di questa riluttanza perché sapete un problema che bisogna risolvere e allora richiede tempo richiede attenzione distrae dall'ordine del giorno alle istituzioni perché richiede una bella preparazione e poi da chi andare per la preparazione quello e quell'altro ci sono delle cosiddette giustificazioni ecco la riluttanza nasce da qui e queste conseguenze di questa riluttanza includono un potenziale aumento del rischio di attacchi terroristici a sorpresa una minore efficacia delle politiche di sicurezza è un indebolimento della fiducia pubblica anche nelle istituzioni governative perché sentiamo sulla pelle abbiamo la sensazione che non siamo difesi abbastanza così si arriva alla mancanza di informazione la prossima e consapevolezza c'è una mancanza di consapevolezza nel popolo nel pubblico una chiesa non parliamo solo di istituzioni politiche se le chiese mangiere ha detto bene prima il pastore gennaro è stata la prima chiesa ma se ci sono pastori che credono di ovviare a questa accadimento e accanimento pensando che tanto non sarà un problema che li riguarderà lo auguriamo tutti ma è bene non fare non seguire il modello delle istituzioni e informarsi perché potrebbe succedere a chiunque a qualsiasi chiesa se non siamo consapevoli del pericolo mi rivolgo ai pastori ai vescovi a coloro che dio ha messo come sorveglianti potremmo essere investiti e presi di sorpresa così se le istituzioni non riconoscono i rischi provenienti dall'islam politico dobbiamo farlo noi dal basso questo è il mio consiglio perché noi siamo in balia dell'ignoranza siamo in balia della disinformazione e se non sei informato e non sei consapevole delle reali minacce va tu discapito va discapito di una chiesa per esempio in qualche chiesa all'estero in francia nel 2016 una persona è piombata dentro una chiesa cattolica si è piombata dal prete anzianissimo 80 anni passa e lo ha lo ha decapitato davanti ai fedeli molto spesso allora è successo adesso recentemente una settimana fa in australia un altro giovane aveva 17 anni perché ora la tendenza che usano minorenni perché c'è meno conseguenze penali con i minorenni un minorenne è andato davanti al pulpito in presenza dei fedeli si è diretto risoluto verso il prete ortodosso non era una chiesa cattolica stavolta ortodosso e lo ha accecato con un coltello si vede nel filmato che alza la mano con una lama e glielo ficca nell'occhio c'è un versetto del corano che dice chiaramente e anche in italiano è così lineare trasparente di rivolgersi ad attaccare prima i leader delle comunità quindi sì perché io credo poi psicologicamente che quando una una chiesa viene attaccata viene attaccata indirettamente fisicamente il leader il pastore o se il prete ortodosso il prete cattolico la comunità ha terrore e infatti il corano dice seminate il terrore procurate il terrore il corano parla di terrorizzare non solo di uccidere e non solo di odiare e la parliamo della radicalizzazione nascosta immagina un ladro che vuole rubare a casa tua e guarda un po non hai l'impianto di antifurto o ci mettiamo male qua va molto male e questo succede che mentre sei fuori lui può entrare indisturbato in casa tua per spiegare che allo stesso modo se le istituzioni non monitorano vi ricordate l'impianto antifurto non monitorano da vicino l'attività dei gruppi estremisti islamici questi possono raggiungere i loro obiettivi senza essere notati raggiungendo i loro scopi senza ostacoli nel mese di febbraio a aspetta in al era lì in irlanda non mi ricordo la capitale di dublino a dublino un lupo solitario si è appostato davanti l'uscita di una scuola è cronaca è cronaca i giornali di tutto il mondo ne hanno parlato ha fatto anche un servizio su youtube su questo ha aspettato che uscissero i bambini e ha portellato i bambini che uscivano da scuola compreso qualche madre ci è andata di mezzo una madre morta allora questi sono i fenomeni dei lupi solitari quindi queste sono radicalizzazioni nascoste che appaiono all'improvviso e siccome ti manca l'informazione ti manca la consapevolezza sei la persona più innocente dal punto di vista che non te lo aspetti ti capita quel giorno lì poi c'è la prossima è la fiducia la fiducia pubblica viene a mancare sì perché prendiamo l'esempio di un bodyguard amici e se tu ti accorgi che il tuo bodyguard non fa quasi nulla quando vede un pericolo avvicinarsi alla tua persona che ti vuole aggredire anzi scappa iniziamo a dubitare della sua capacità di proteggerci non è giusto così allo stesso modo se le istituzioni non affrontano le minacce di certi radicalizzati contro la sicurezza il cittadino potrebbe perdere fiducia e penserà a difendersi da solo uscirà magari tra po di anni non è lontano usciremo armati da casa e faremo giustizia da noi stessi per difendere i nostri familiari i nostri figli e questo non deve accadere tensioni sociali l'ultimo se non affrontiamo il problema le tensioni tra diverse comunità musulmane occidentali nascono dalla diffidenza no tu mi vuoi uccidere non mi vuoi uccidere chi sei tu no io sono cattolico o io sono evangelico io sono musulmano ecco possono aumentare perché le paure le preoccupazioni non vengono discusse in modo aperto e onesto come questa sera questo dovrebbe essere una puntata che aiuta ed è di conforto per quanti noi stiamo sentendo queste cose è propedeutica io spero per tanti di noi in conclusione per finire la tua domanda paolo per i magistrati e per le forze dell'ordine per rendere il nostro paese più sicuro anche lo studio della vasta giurisprudenza islamica come parte di una strategia di sicurezza nazionale potrebbe sembrare esagerata per me non è esagerata conoscendo il problema ma può anche essere considerato plausibile per battere d'anticipo il programma dell'islam ideologico riconoscendoli immediatamente i sintomi i segnali allora francesco le politiche di tolleranza e inclusione possono diventare un problema quando non riusciamo a distinguere tra espressioni religiose che rappresentano una vera minaccia per la sicurezza pubblica e questo è quello di cui parlava prima il pastore gennavo l'avevo preparata pastore gennavo allora le politiche di tolleranza e inclusione possono diventare un problema quando non riusciamo a distinguere le espressioni religiose che rappresentano la vera minaccia per la sicurezza pubblica la mia risposta è sì se non si riesce a capire la differenza tra espressioni religiose pacifiche da quelle che spingono la violenza cioè tra estremisti e moderati in sostanza per parlare semplicemente si possono fare politiche troppo tolleranti che permettono idee pericolose diffondersi dilagarsi e lo fanno molto facilmente abbiamo visto un esempio a milano io abito a milano e mi tocca molto da vicino questo perché conosco la statale università alla statale tre mesi fa o due mesi fa hanno sfruttato gli spazi dell'università per fare delle riunioni pro palestina ma questo sarebbe poco a in più hanno fatto una lettura ampia del corano durante l'aula agli studenti sono venuti degli imam e degli esperti che leggero ancora in arabo un momento ma le università non dovrebbero essere laiche ecco vedete ecco vedete come entrano piano piano per quello sto dicendo che l'inclusione può diventare un problema quando non si riesce a distinguere queste espressioni abuso della tolleranza immagina immaginiamo amici una città dove ci sono continui casi di violenze ai danni delle persone io sto pensando a milano sto pensando alla mia città ogni volta che un caso viene alla luce e non ci sono conseguenze per la persona colpevole la fiducia dei cittadini nelle istituzioni diminuisce così i gruppi estremisti sanno queste cose e sanno che possono approfittare delle politiche troppo tolleranti per promuovere le loro idee estreme facciamo un esempio il pastore gennaro prima ci ha raccontato che i cittadini della città di san giuliano hanno chiamati carabinieri poi carabinieri sono arrivati li hanno trovati mi sembra hanno parlato con loro ma poi le hanno lasciate andare hanno fatto una denuncia sì ma poi le hanno lasciate andare a casa questo crea sfiducia nel popolo e paura nel popolo perché siamo diventati noi adesso i punti d'accusa come diceva bene prima il pastore gennaro così gruppi estremisti possono approfittare delle politiche troppo tolleranti per fare quello che vogliono e addirittura fingendo di agire per la libertà religiosa perché quando quello viene dice all'acqua io faccio qua spacco qui che spacco là o quando l'università dicono va bene non siamo più laici da questo momento facciamo studi del corano stanno sfruttando questo con la scusa con la bandierina della scusa di una libertà religiosa che non si può negare quindi siamo presi a l'ostaggio noi stessi poi c'è la protezione insufficiente la protezione insufficiente di cui sto parlando solo se le istituzioni non sanno identificare correttamente le minacce legate all'estremismo islamico non riusciranno a proteggere abbastanza la sicurezza pubblica lasciando la società esposta ai possibili rischi per esempio una settimana fa alla sezione centrale e la cronaca parlo di cronaca ufficiale non un giornalino piccoli titoli grandi un carabiniere con la pattuglia dei carabinieri hanno visto alla sezione centrale un malintenzionato aveva fatto delle era appena uscito da una interrogazione della polizia ed era uscito nervoso arrabbiato dice giornale e così andava in giro in vento contro le persone strattolando le quanto a quell'altro i carabinieri sono fatti avanti lui si è lanciato contro i carabinieri con un coltello questi hanno usato il tese forse per delicatezza per non offendano hanno scaricato soltanto dieci volte invece di 250 volte non lo so però questa persona qui ha reagito al teser tranquillamente e con il teser addosso con i raggi scaricati addosso si è alzato l'energumeno e si è rivolto con il coltello verso i carabinieri e il carabiniere per difendersi ha sparato ha sparato autodifesa e lo ha pure ferito a una spalla lui è indagato dice il giornale e quello è libero quindi le persone poi hanno sfiducia e cominciano anche a reagire in un modo non legale c'è stato un altro poliziotto un certo cristian dieci giorni fa è stato accortellato alla stazione di labbrate stazione ferroviaria di labbrate a milano la polizia riteneva di dover chiedere i documenti questo signore marocchino dice il giornale marocchino ha sfilato dalla manica della giacca una mannaia e lo ha accortellato è finito in ospedale gli hanno fatto 60 infusioni di sangue e di plasma poi abbiamo l'erosione della fiducia pubblica abbiamo ripetuto questo immaginiamo dove ci sono continui casi radicalizzati che le guardie dell'ordine scoprono ogni volta un caso vicino viene alla luce e non ci sono conseguenze penali e li lasciano liberi anche i magistrati questo crea risentimento e tensione non ci sentiamo più protetti la coesione sociale è come un tessuto se alcune parti sono tirate troppo da un lato e altre trascurate dall'altro lato bene il tessuto si strappa la sfiducia poi prende il posto all'obbedienza della legge abbiamo un'ultima radicalizzazione e reclutamento un'organizzazione estremista sfrutta le politiche della attuali e le politiche della libertà di parola per diffondere ideologie violente nelle scuole e reclutare i giovani e non parlo di io qua di un'organizzazione estremista qualsiasi ma anche quella islamica per essere chiari stasera stiamo parlando di islam ed è sempre sottointeso quando parlo di un'organizzazione estremista stiamo parlando di islam questa sera quindi le politiche di inclusione sono come un giardino aperto mi piaceva quello diceva prima il pastore condivido se non si presta attenzione i semi delle erbacce di questa bella cosa che si chiama inclusione possono crescere le gizzanie no le erbacce e soffocare quei fiori la chiesa in questo caso è stata accredita e delle persone sono spaventate anche terribilmente i bambini gridavano sono un papà potevano essere terrorizzati i bambini sicuramente le mamme quindi soffocare i fiori rovinando il giardino che si intendeva proteggere mi viene in mente il caso recentissimo delle riunioni francesco francesco è stato terrorizzato anche il ristorante che era a fianco con tutti i suoi clienti che erano dentro ecco quindi si accanto alla chiesa c'è un ristorante peruviano si sono barricati tutti dentro e spaventati anche loro e tra e tra l'altro mi faceva notare chi era presente che a registrare non erano solo i vicini ma erano i suoi compagni che registravano mentre distruggevano le vetrine quindi c'è una collusione in questo questo è un attacco giadistico francesco quali sono le conseguenze di questa problematica per la sicurezza pubblica le conseguenze di queste problematiche per la sicurezza pubblica primo aumento del rischio di attacchi le forze dell'ordine i funzionari pubblici devono ricevere formazione specifica per identificare segni di radicalizzazione in anticipo e distinguere tra pratiche religiosi innocue la priglia pubblica quella e quell'altra ma quelle estremiste anche potenziali rischi vorrebbero verrebbero identificati affrontati tempestivamente io ho detto prima le nostre istituzioni le forze dell'ordine che sono esposte ai pericoli molto da vicino abbiamo fatto due esempi prima hanno diritto di proteggersi sono dei padri di famiglia e devono fare dei corsi dello studio dell'islam politico ideologico e devono naturalmente essere preparati per primi perché loro sono sul terreno del diretto scontro con certi personaggi non io né tu né altri sono loro che devono essere protetti e poi passiamo alle politiche di sicurezza che sono state compromesse spesso le forze dell'ordine hanno le mani legate dall'eccessivo politicamente corretto verso i radicalizzati le persone che hanno attaccato al grido allao akbar sono state rilasciate poi dalla polizia e questo sapete allora quello che è stato lì a san giuliano milanese è stata come diceva prima il pastore la prima chiesa ma è il segnale di un qualcosa che vogliono estendere in tutta l'italia non guardano in faccia le chiese evangeliche guardano non guardano in faccia le chiese cattoliche agli avventisti agli ortodossi non guardano in faccia nessuno quindi questo è stato il primo episodio un triste primato che potevamo evitare di avere a casa nostra un triste primato ma è un qualcosa che va perpetuandosi io spero di potermi lanciare un segnale un sasso nello stagno invece del silenzio perché il silenzio incoraggia queste persone gli estremisti l'incoraggia quando io ho ho scritto al giornale non mi ha pubblicato la lettera sul giornale online non l'ha pubblicata io mi aspetterei non ci distanziamo ma in nome del buon vicinato in nome del islam e pace io gli chiederei di andare dal pastore e dire mi dispiace per quello che è successo soltanto questo che dovrebbe partecipare alle spese ingenti quanto è speso tu pastore gennaro per la riparazione delle vetrine allora 1300 euro però devo dirti che loro si erano presentati con il presidente della loro scuola che si chiama mamud ottman presidente della scuola egiziana che volevano pagarci le spese ci avevano anche quantificato siamo venuti qua per darvi un 300 euro che noi però non abbiamo chiaramente voluto perché a parte che voglio dire una spesa che una cosa che costa 1300 euro e tu dici vorremmo dare 300 euro sembra quasi che state facendo un favore non è che ci hai chiesto una fattura no delle spese e questo noi noi abbiamo manifestato il nostro amore perdonandoli chiaramente abbiamo detto loro il vangelo a noi ci fa perdonare ma abbiamo anche detto che la legge fa il suo corso e anche anche perché loro avevano provato a chiederci di dimettere la denuncia e anche diciamo un po' intimidendo onestamente tanto è vero che dicevano allora se non fate questo vuol dire che non avete perdonato e perché è entrato in campo un nostro fratello che è nell'arma dei carabinieri e gli ha detto guardi forse lei non sa che noi non siamo chiamati a togliere la denuncia possiamo al massimo integrare dicendo che vi abbiamo perdonati che noi non vi abbiamo ricevuto per avere i soldi ma che non abbiamo accettato in quanto poi la spesa non era quella un atto come dire di carità tieni ma queste sono denunce che sono procedibili d'ufficio e il fatto che abbiamo spiegato è estremamente grave che quello che noi ti perdoniamo ma la legge deve fare il suo corso perché tu lo potrai fare tranquillamente e lo farai ad altri tranquillamente le politiche di tolleranza inclusione sono importanti per una società giusta e pacifica le premesse ma dobbiamo anche garantire la sicurezza pubblica viva l'inclusione ma soprattutto ancora più viva garantire la sicurezza pubblica di pari proporzioni è fondamentale distinguere tra pratiche islamiche e pacifiche dico da quelle estremiste per evitare proprio i problemi che si sono verificate a san giuliano milanese quando i bambini nelle madrasse scuole religiose memorizzano il corano e rischia è un rischio allora quando i bambini nelle madrasse scuole religiose islamiche memorizzano il corano è rischioso la mia risposta è affermativa iniziamo con analizzare l'educazione e l'interpretazione dei testi da un bambino no sapete i bambini vanno alla scuola del corano dall'età di sette anni secondo la tradizione islamica un bambino a sette anni è obbligato ad andare alla scuola non a sei anni non a cinque anni a sette anni quindi da un bambino ai sette anni cosa ti aspetti che capisci il corano nei corsi delle madrasse i bambini imparano la memoria il corano senza capirlo davvero questo potrebbe renderli più vulnerabili più passivi più facili il famoso lavaggio del cervello a interpretazioni estreme quando saranno adulti non tutti ovviamente perché non hanno imparato a pensare quello che memorizzano criticamente a quell'età che vuoi criticare vulnerabilità alla radicalizzazione parliamo adesso quando i bambini nelle madrasse e le scuole religiose memorizzano il corano presenta dei rischi certo potrebbero interpretare nel loro cervellino potrebbero interpretare alcune parti del corano in modo letterale e cominciare già a fare di distingui binari nel senso lui non è musulmano tu sei musulmano con te gioco in questo modo tu non sei musulmano queste sono scelte binarie e quindi da adulto potenzialmente potrebbe decidere di selezionare ancora le persone in categorie discriminate sulla base della loro scelta religiosa allora vorrei avere una segnalazione da qualcuno da qualche mamma o dai anche para vicini vorrei constatare se esistono delle scuole coraniche per bambini madrasse dove insegnano l'inclusione con l'occidente dove insegnano i valori occidentali dove insegnano i valori del rispetto di parola e della fede altrui vorrei non penso di fare un'affermazione forte non esistono no no non dico questo ma vorrei vedere con i miei occhi e vorrei ascoltare con le mie orecchie se insegnano in le situazioni islamiche in una certa scuola a includere fare loro l'insegnamento di inclusione perché sono le migliori persone possono farlo soltanto loro per il loro popolo l'ambiente isolato se le madrasse sono separate dal resto della società e non ha perché vivono così non sono separate e non hanno controlli da parte di nostre istituzioni questo approccio pedagogico potrebbe portare i fanciullini potenzialmente a percepire il mondo in termini musulmano non musulmano diventare suscettibile all'adozione di ideologie estremiste beh allora alcune persone potrebbero diventare lupi solitari secondo le interpretazioni controverse del corano che hanno imparato a memoria è vero che il corano in italiano dice combattere non dice uccidere ma i bambini arabi memorizzano il corano in arabo e quindi non memorizzano il corano in italiano non memorizzano combattete memorizzano uccidete quindi i nostri bambini nel nostro tempo sul nostro territorio figli degli immigrati non sono soltanto un patrimonio bello dei nostri connazionali musulmani che ormai vivono qua tanti anni ma è anche un patrimonio italiano quante madrasse danno lezioni che insegnano a pensare criticamente e promuovere la pace la tolleranza in questi fanciullini io non ne conosco ma vorrei conoscerli poi abbiamo il dialogo all'inclusione dialogo e inclusione possiamo ridurre il rischio di radicalizzazione iniziando dai bambini nelle madrasse con la collaborazione delle istituzioni islamiche come l'Ukhoi come Iach Pallavicini per Coreis e altre associazioni importanti che si che queste due associazioni Coreis e Ukhoi si rapportano normalmente con le nostre istituzioni politiche si interfacciano tranquillamente quindi loro potrebbero guadagnare naturalmente molto prestigio e complimenti dalle nostre istituzioni perché vedete il pericolo delle madrasse che loro involontariamente indirettamente applicando questi segnamenti che abbiamo parlato ho accennato soltanto leggermente in questi ultimi dieci minuti stanno creando dei robot contro la nostra società non è questo la loro intenzione di creare dei nemici in casa nostra ma se non c'è un intervento con le istituzioni islamiche questi bambini da grandi e da grandi alcuni potrebbero essere appunto potenzialmente lupi solitari e quindi con riforme educative e una migliore supervisione insieme alle istituzioni islamiche Coreis e Ukhoi potremmo prevenire la radicalizzazione e assicurarci che le madrasse diventino luoghi sicuri di apprendimento pro occidentale in collaborazione con gli stessi grandi personaggi di prestigio accreditati dallo stato anche se alcune madrasse potrebbero favorire indirettamente la radicalizzazione è importante non generalizzare lo dico a me stesso e lo dico anche a voi che state ascoltando non dovete accusare tutte le madrasse di essere tutte così concludo il mio intervento con un invito aperto alle autorità islamiche un invito aperto a Coreis un invito aperto a Ukhoi di venire e contattarmi possiamo sempre godere un buon caffè arabo insieme io vorrei bere un caffè arabo mi piacciono mi mancano i caffè arabi sono un po' più forti di quelli degli espressi nostri ecco sono più potenti ti scuotono molto forti ecco possiamo sederci intorno a un tavolo conoscerci e fare amicizia e parlare di questi temi che ho presentato questa sera auspico che i nostri amici dei leader islamici possano facilmente contattarmi a questo email osservatorio islamitalia gmail.com e io darò il mio numero di telefono successivamente possiamo sempre stringerci la mano io separo le persone dalle ideologie che rappresentano quindi io non sono per giudicare a prioristicamente io separo questo è il valore del Vangelo è il valore del nostro Vangelo è il valore del nostro Signore Gesù Cristo che ci hanno trasmesso io separo quello che loro rappresentano mi rivolgo alla persona quindi urgere a affrontare apertamente le questioni delicate legate riassumo e concludo l'istigazione dell'odio nel Corano e l'istigazione a uccidere i miscredenti questo nel Corano sono due cose sono due elementi talvolta associate poi dai lupi solitari che ne fanno una lettura estremista e letterale e questo a vostra magari danneggia la vostra immagine che volete portare avanti come Islam, religione di dire alziamo alta la bandiera della nostra affrancamento dalla schiavitù noi siamo schiavi soltanto della verità siamo schiavi dell'amore in Cristo non ci facciamo impaurire non ci facciamo intimidire e allo stesso tempo non dobbiamo fare l'errore di generalizzare e sempre di dividere di suddividere le persone dalle ideologie che rappresentano perché Gesù dice che lui non è venuto per giudicare per condannare ma per salvare grazie a tutti pregate per noi e sappiate che comunque la comunità è molto forte da un punto di vista spirituale e questo evento ci ha incredibilmente incoraggiati anche se voi ci avete incoraggiato il Vangelo è e rimane potenza di Dio è proprio nella debolezza che il Signore ci manifesta di essere forti quindi sappiate che stiamo davvero bene e quello che ho ascoltato stasera è meraviglioso e mi ha fatto anche piacere scoprire delle cose che pensavo già forse per intuito o non so forse per lo spirito non lo so con il Dottor Maggio ci incontreremo presto per formare i nostri missionari perché ciò che manca anche a noi come corpo pastore è una formazione adeguata e quindi penso caro Maggio che avrai ancora tanti anni amén davanti a te e anche dei discepoli da formare perché insegnino come insegni tu sul tuo stesso livello Salve a tutti mi chiamo Giovanni Greco e sono presidente e docente della scuola Sky tutto è iniziato quando Francesco Maggio mi ha proposto di collaborare con lui in questo progetto unico per il nostro panorama evangelico ho accettato la sfida perché essendo pastore della chiesa Galed in Abruzzo sentivo il bisogno di fare qualcosa per raggiungere i musulmani la mia partecipazione vuole essere un auspicio per tutti i pastori anziani e diaconi di chiesa ma anche per i credenti di buona volontà a essere ben equipaggiati per predicare Gesù a tutti compresi i musulmani questo è il tempo propizio per rispondere alla santa chiamata che il Signore rivolge ai Suoi figli e Sky vuole essere un valido aiuto un caro saluto e spero che tanti di voi possiate beneficiare del nostro ministero vi aspettiamo